Bovaro del Bernese Pastore tedesco Borzoi Alaska Malamut Samoyedo Skipperki Beagle Jack Russell Allora Coppie Maschio e femmina Appartenenti allo stesso proprietario Allevatore E il giudice valuta L'omogeneità della coppia E anche il dimorfismo sessuale Cioè un cane si deve vedere ad occhio Se è maschio o femmina Ecco qua la coppia di Riesesnauzzer nero Questa è una coppia di Bovari del Bernese E la coppia di Pastori tedeschi Levrieri russi Borzoi Alaskan Malamut Samoyedo Samoyedo La coppia di Jack Russell E di Zer Pinscher Rossi E di China Crescendo Vediamo che il gruppo è veramente numeroso Allora Il giudice Claudio De Giuliani Mi ha dato la sua classifica Classifica al terzo posto E premia La coppia di Jack Russell Al secondo posto È un'altra coppia di cani piccoli China Crest and Dog La coppia Vincitrice È una coppia di cani a gamba lunga Siete in sei coppie Vincono I Borzoi Un applauso a questa bellissima coppia Ecco qua Borzoi Miglior coppia qui All'internazionale di Ancona Al secondo posto La coppia di China Crest and Dog Al terzo posto I Jack Russell All'internazionale di Ancona 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 Grazie a tutti.